C'è qui questo biglietto che praticamente posso usarlo, se arriva così il controllore io lo oblitero e poi se invece non c'è il controllore io c'è che faccio, lo ritiro dietro perché è inutile che io lo oblitero se non c'è nessuno, cioè alla fine non mi conviene, a me conviene che mi faccia i cazzi miei.